YouTube introduce una nuova funzionalità, gli short video brevi della durata massima di un minuto che vengono mostrati in una sezione apposta, quella delle stories, per intenderci, che al momento non ancora sono in Italia, non solo che sono, scusate, però saranno anche dalle altre nazioni, dalle altre paesi. Allora, questa funzionalità è molto interessante, adesso scrivetemi nei commenti se avete visto questo video nella sezione normale, quella di feed di YouTube, o nella sezione delle stories, scrivetelo nei commenti che sono tanto curioso. Come si va praticamente a finire in questa sezione? Per il momento dobbiamo scrivere le noti del video, o qualsiasi, non so di altre cose. Vabbè, io vi super ringrazio, vi do un appuntamento alla prossima. Grazie Michele che mi ha fatto scoprire la notizia per primo, grazie Michele e a presto.